buonasera buonasera da losail tra pochi minuti inizierà il consueto turno di warm up e potete star certi che i piloti lo useranno per dare gli ultimi ritocchi all'assetto delle moto in vista del gran premio come potete vedere voi stessi la tradizione del bel tempo qui a losail viene rispettata in pieno e i piloti potranno contare su cielo sereno per tutta la durata della sessione buonasera 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 Grazie. La sua moto è pronta e il pilota si prepara a scendere in pista. Vedremo se ha la caccia del tempo o se sta semplicemente provando un cambio d'assetto. Grazie. 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 sulla classifica finale del warm up si conclude il cammino di avvicinamento al gran premio e a me non resta che darvi appuntamento a tra poche ore quando daremo il via ufficiale ad un'altra giornata di gare un saluto a tutti i telespettatori dalla penisola del qatar i riflettori che illuminano a giorno il circuito di losail sono accesi e tra breve lo saranno anche i motori delle moto gp anche quest'anno come da tradizione su questo tracciato ci aspetta un gran premio all'insegna del bel tempo con temperature che non dovrebbero creare problemi alle gomme spostiamoci sulla griglia di partenza con le telecamere che ci mostrano i piloti mentre cercano la concentrazione prima dell'inizio di questa gara che ci sono troppo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.